buongiorno signora posso aiutarla? sì grazie è tutto così bello che non riesco a scegliere vorrei una pianta che mi ricordi l'aria di vacanza ho capito mi segua è perfetta mi dica di più voglio sapere tutto di cosa bisogno per crescere sana e forte? innanzitutto va annaffiata regolarmente e fertilizzata con concime a lenta cessione l'esposizione al sole per questo tipo di pianta è molto importante ma posso lasciarla in questo vaso? certo può farla crescere dove vuole basta che sia all'esterno il balcone il terrazzo il giardino sono perfetti ma lo sa che mi sento di nuovo al mare? ma a che prezzo? questa pianta sarà in offerta dal 9 al 26 marzo a soli 19 euro e 95 centesimi come profuma la prendo subito se volete saperne di più venite a trovarci in negozio o andate sul nostro sito obitrattinitalia.it scusi posso chiederle un'ultima informazione